Si conclude proprio in questi minuti e simbolicamente in IFAB la visita dell'assessore Fermi. Il titolo è sintomatico, simbolico, viaggio tra le eccellenze. È stato un viaggio anche l'intera mattinata. Per molti aspetti è una responsabilità quella di far crescere un'eccellenza e anche un'occasione di grande confronto quella di poter discutere di eccellenza con la regione Lombardia e con l'assessore Fermi e fino a poco fa anche con il governatore Fontana. Raccogliamo degli spunti per proseguire, in particolare sul tema della ricerca e mi sembra che raccogliamo anche un consenso di fondo su come l'unità è impostata. Ci attendono nuove sfide, alcune sono emerse anche stamattina. Credo che da domani o già da oggi pomeriggio dovremo ricominciare a tirarci sulle maniche perché al di là delle idee poi c'è un tema di execution e l'execution è rivolta ai nostri studenti, è collegata all'attività della business school, sono i nuovi progetti a cui stiamo lavorando. Penso al triennio in lingua inglese che partirà a settembre, ottobre, penso al progetto di Executive MBA, penso alle sfide dell'internazionalizzazione. Quindi si ricomincia con appunto il conforto di una piacevole occasione di confronto e utile occasione di confronto si ricomincia a lavorare.